Siamo con Roberto Di Mace che presenta tantissime novità, iniziando dal gilet con abbinato anche il tubolare. Esatto, noi quest'anno per il 2014 proponiamo il gilet alla coreana con l'elastico nella parte sulla fascia, sul lato. Cosa serve questo elastico? L'elastico serve naturalmente per avere una vestibilità più aderente, quindi un fit più asciutto e quindi poterlo indossare sia sopra una t-shirt o anche al di sopra di una giacca in pelle, perché l'elastico permette una taglia, una taglia e mezza in più con questo sistema. In quante varianti abbiamo? Abbiamo la variante base nero, classico, e la possibilità di poterli creare anche con differenti colori, su quantità naturalmente. Colori che possono essere delle tinte pastello, bianche, grigie, blu o altro ancora, o anche delle fantasie particolari come il camouflage, come questo che indosso, stampato in sublimazione. E poi voi i maci siete famosi per personalizzarli, soprattutto se sono in grandi quantità e quindi ci rivolgiamo ai motoclub. Motoclub o anche concessionarie, sì, per le quali possiamo naturalmente sia personalizzarli con ricamo, nella parte frontale o nel retro, applicare anche toppe o stamparli, come dicevo prima, con qualsiasi fantasia. E sempre per i motoclub si fanno anche i tubolari, quindi abbinamento perfetto. Sì, abbinamento che può essere sia per il motoclub o anche per un evento tipo un motoraduno, la creazione di questo tubolare, un tubolare in materiale bielastico, come questo che indosso così, realizzabile con qualsiasi grafica. Noi possiamo realizzare anche la grafica dandoci semplicemente il logo. Ora abbiamo sistemato il motociclista, pensiamo alla moto. Beh, per la moto quest'anno abbiamo i coprimoto, dei coprimoto con materiale bielastico da interno, è quindi un antipolvere. Possiamo realizzarli con diversi tessuti, diverse colorazioni e anche questi personalizzabili, sia per il motoclub e anche questi per le concessionarie. E poi ci sono tantissime altre cose e queste si potranno vedere sul sito. Certo, sul sito dove abbiamo lo shop online, dove potete acquistare tutti i nostri prodotti e basta. E ricordiamo che il sito è imace.it. Esatto. E vi aspettiamo anche su Facebook. Sì, dove potete seguirci, abbiamo tutti i nostri prodotti in uscita e anche le varie realizzazioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.